vediamo chiestesimo, chiestesimo passaggio di mezzoni infissi è un fosso, è un fosso un'altra macchina delle difficoltà dietro c'è Antonio con Marta Antonio Ciancarella con Marta Ciancarella questi nuovi statisti, la debuttante Marta Ciancarella la debuttante prossimamente si lancerà in questo settore ecco c'è un intervento di un mezzo meccanico pesante per tirare fuori una macchina che non va vediamo se va il mouse meffissi interviene un trattore Landini 5000 a fare un recupero, un salvataggio ecco qui adesso si supera questa fase di stallo è una fase di stallo ma sono fissi, si sta aspettando ecco adesso partono vediamo 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 come vanno il terreno è viscido viene dietro il ragazzo viene dietro ecco adesso si sta aspettando che si libera il percorso ecco vediamo adesso deve partire ecco qui vediamo vediamo se riesce a superare vediamo se riesce a superare eccolo qua eccolo qua eccolo qua ecco ah slitta un po' deve tornare indietro e mettere una marcia più alta una marcia più alta ecco qua eccolo qui che parte veloce parte veloce parte veloce è là l'ultima buca l'ultimo passaggio l'ultimo passaggio ecco un'altra macchina che lì non ce la fa lì non ce la fa perchè è ripeto ecco un'altra che fa tanta che sena non sono fissi a questa buca ecco qua ecco qua ecco qua ecco ecco qua